Avere e lavorare 28 anni, dando tutti i due coglioni per la smarsa di pensione, arrivare una mattina dal canceo dell'officina, ciapposcae perché me gaccia ma il paron. Sior Stefani, mio caro, me despiace ma purtroppo a fine mese qua parlo uno che ne è più. L'azienda che ha bisogno di Arianova, l'aga tolto, sente in prova e resta a casa proprio lui. Mi fasso il progettista dei motori, quei che dopo compra i siori pa' andar a bevare il caffè, e parcheggiando alla Dio te strucca il mese qua e che ti tocca smontarci dal marciapie, e penso che con l'esperienza fatta trovarias' un'altra dita dei motori che metto e... A me mi chiamo il mago del pistone, a me mi basta una inserzione da pubblicare sul giornale. Ne a testa a me sono già fatto un'idea, metto a me fotografie sotto tutta descrizione, di tutte quante le fatighe mie, il mio bagaglio, cultura e tutti i tittoi che go. E in fasso quattro o cinque, dopo speto, dopo aver aspettato un tocchetto, non mi agaccia mai nessun. Sarà che ormai gosassi cinquanta anni e adesso quei che sei sanziani come me non li rende più. De tutto il mocio che avevo in banca mi restava una pianca pa' comprarmi ai nazionai. E penso di sbassare le pretese pur di avere a fine mese sporchionti quattro schei. Così metto la foto dei miei brassi cos'ho scritto che go grossi e che go ancora buone spa'e. Pur di portare a casa qualcosetta col mio fisico d'atleta, vo' anche a fare il manovare. E aspetto che dopo aver aspettato un tocchetto che me c'ha a me, cos'ha avuto, non mi agaccia mai nessun. Sentivo una gran voglia prepotente di buttarmi sotto dal ponte e non parlare nemmai più. G'avevo programma all'ultimo voio, andare via mostrando il cuo e tutti quei che resta qua. G'ho pubblica e me c'ha peco su scritto questo lepi bel sauto che oramai ve posso fare. Aver passata una vita del lavoro poi una cosa nel casero senta solo un capitale. Quei che fa fila fuori dal porton in me c'ha ma il mago del piston che son tanto naturale. Ehi me domanda come che g'ho fatto stare fuori dal mercato tanto tempo come mai? Tirare e sfaticare come muo quando che tra i pei del cuo tirapide si è cavai. Oh Baby 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 That's pretty cool , attirapide si è cavai Oh baby, baby Oh baby, baby